Sono 6 milioni di euro annunciati dall'assessore regionale agli enti locali Pietro Quaresimale destinati alla montagna abruzzese Fosmit. Le risorse finanziarie in particolare sono destinate a sostenere e a realizzare e a promuovere interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani della regione per le finalità anche innovative rispetto alle misure previste a livello nazionale o di continuità dei progetti già attivi sui territori interessati. Con questo fondo che verrà elargito a favore dell'Unione dei Comuni Montani, Comuni Montani e anche Comuni Convenzionati, vogliamo agevolare lo sviluppo sostenibile con una serie di iniziative che vanno dagli incentivi alla creazione di start-up sul green economy ma anche a livello di mobilità, ovvero la creazione di minibus elettrici che possono collegare i vari territori e soprattutto andare incontro alle esigenze di quei cittadini che non si possono muovere. Numerose le azioni di tutela previste dal fondo. Incentiveremo progetti a favore dei giovani affinché si possono integrare socialmente ed economicamente, faremo delle giornate di formazione ma anche per sensibilizzare le persone a vivere in una maniera più sostenibile in questi ambienti. E poi infine anche incentivi all'occupazione perché sappiamo benissimo che queste zone sono le più svantaggiate, hanno subito pregiudizi non solo a seguito della pandemia ma già dagli eventi calamitosi di terremoti e di stessi idrogeologici. Sicuramente un'altra iniziativa che metteremo in campo, che già abbiamo messo in campo come Regione ma adesso rilancieremo questa progettualità ovvero che è quella di favorire la natalità ovvero incentivi ai nuovi nati e soprattutto a coloro che si trasferiscono da un comune non montano ad uno montano.